Il sole e le temperature quasi estive, nonostante ormai sia il mese di novembre, aiutano indubbiamente il turismo nelle città d'arte. Arezzo in questo è stata scelta, come altre mete della Toscana, per questo ponte di Ogni Santi. Dopo Siena Firenze e poi Arezzo magari. Ma Siena è una meraviglia, tutto troppo bello. Siena è il posto del cuore. Pienza, Montalcino, San Quirico d'Orcia e il primo giorno abbiamo fatto Montepulciano, tre giorni in totale. Chiaramente il tempo ha aiutato parecchio, giornate belle, col sole, quindi le visite sono state aiutate dalle condizioni meteo. Avete trovato città piene di turisti? Sì, abbastanza piene, anche quei borghi più piccoli sono stati ben frequentati. Il tasso di occupazione dei posti letto, secondo i dati della fondazione Arezzo in Tour, è dell'85% anche in questi primi mesi autunnali. Un risultato dunque sperato, ma non certo scontato. Siamo passati tantissime volte in autostrada, Arezzo, 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 e siamo rimasti meravigliati dalla bellezza della città. Siamo appena arrivati, ma già siamo rapiti. Un giorno intero però in città. Sì, un giorno intero in città, di passaggio, ma abbiamo deciso comunque che abbiamo pernottato e oggi vivremo la città per intero. Io eravamo giù a Tivoli a vedere le ville romane, oggi torniamo su a Bologna e ci siamo fermati a metà strada. Non avevamo mai visto Arezzo, abbiamo fatto tappa qua oggi. Un ponte di ogni santi da tutto esaurito anche a Cortona confermano gli operatori turistici del territorio e gli albergatori. Ma l'Italia, si sa, è bella tutta e in ogni stagione dell'anno. Sempre piacevole, vicino a casa, raggiungibile, mangi, bevi bene, panorama bellissimo, architettura, storicità sempre appagante.